Il presidente della provincia Buonopane completa la sua squadra affidando deleghe specifiche ad otto esterni. Di fondazione Irpini e turismo di ritorno si occuperà Rosanna Repole, a Francesco Iandolo, consigliere comunale di Avellino il rapporto con le associazioni, mentre legalità e sicurezza sono affidate a Maura Sarno, esponente dei 5 Stelle. Nella squadra anche il sindaco di Sant'Angelo Allesca, Tivio Iannuzzo, per lui Borghi e Piccoli Comuni, deleghe anche per altri due amministratori, Francesc Antonio Rossi, vice sindaco di Guardia, si occuperà di contratto istituzionale di sviluppo e acqua bene comune, mentre Nicola Trunzio, sindaco di Villa Maina, di dimensionamento scolastico. Completano le deleghe Rosario Addeo alle comunità energetiche e Noemi Aurisicchio alla medicina territoriale. Intanto questa mattina in consiglio provinciale sono stati affrontati due dossier molto caldi, rifiuti e dimensionamento scolastico. Sui rifiuti la valutazione del ramo d'azienda da trasferire al lato si aggira intorno ai 3 milioni e mezzo di euro. Palazzo Caracciolo conserverebbe il resto di Irpini Ambiente per una serie di attività di manutenzione. Sulla scuola la provincia chiede di rivedere le linee guida nazionali che innalzano le soglie del numero di alunni per costituire una dirigenza, l'Irpinia ne uscirebbe particolarmente penalizzata. Corre rivedere le linee guida nazionali che hanno innalzato le soglie diciamo superiore ai 900 studenti. Questo creerebbe enormi problemi per il territorio come il nostro dove molti dirigenti sarebbero costretti, già lo fanno, quindi sarebbe ancora più aggravata la situazione, girare il territorio, questo territorio per appunto svolgere le proprie funzioni. Questo non è accettabile, quindi in uno con la regione ci faremo sentire presso il governo. In realtà da 73-75 scenderemo a 50, quindi sarebbe veramente un dramma. Di presidenze o di istituti? Di presidenze. Ovviamente questo è proprio ideotico anche a un discorso legato agli istituti, la preoccupazione è questa. Grazie a tutti.